Il Tribunale dei minorenni di Palermo impegnato in un insolito caso di omicidio del consenziente. Una condanna inflitta per un suicidio a Realmonte. I dettagli sul campo di imputazione. A fronte dei sei anni di carcere proposti dalla Procura, il Tribunale dei minorenni di Palermo ha inflitto due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ad un ragazzo di 17 anni di Caltanissetta, imputato di omicidio del consenziente a seguito della morte di Mirko Lamedola, 26 anni, che si è suicidato la sera del 25 agosto del 2021 sulla spiaggia di Punta Grande tra Porta Empedocle e Realmonte. Dal 18 agosto del 2021 Mirko Lamedola è stata a Roma per sostenere le prove per l'accesso alla Polizia di Stato, una carriera a cui avrebbe tanto aspirato. E sarebbe stata l'ultima occasione perché per raggiunti limiti di età non sarebbe stato ammesso ad un altro concorso. Fuggidicato non idoneo, rinunciò a un ricorso contro l'esclusione. Lui, deluso e frustrato, avrebbe meditato il suicidio, forse già preventivato, prima della partenza, come paventato in alcuni messaggi. Mirko Lamedola avrebbe condiviso con il minorenne la sua volontà di suicidarsi. I due decisero il giorno, il luogo e l'utilizzo dell'arma da fuoco, legalmente detenuta dalla suicida. Pochi minuti prima di spararsi alla tempia, Mirko Lamedola registrò addolorrati messaggi vocali per salutare i familiari e alcuni amici. Nel capo di imputazione a carico del minorenne si legge, si tratta di aiuto al suicidio perché condividendo con Mirko Lamedola, a lui legato da profonda e intensa amicizia, il programma da lui ideato di porre fine alla propria esistenza, a seguito di una coccente delusione per il mancato superamento di un concorso, prestando assistenza morale e materiale nelle fasi preparatorie ed esecutive dell'atto finale, coadiuvando la vittima nel realizzare le ultime volontà in relazione alle persone a cui dire addio, accompagnandola nel luogo prescelto per il suicidio, rimanendo sul posto fino al compimento del gesto estremo e dandogli materiale aiuto nella relativa esecuzione, rafforzava e comunque agevolava l'esecuzione del proposito di suicidio, attuato dalla mendola attraverso l'esplosione di un colpo di pistola alla tempia sinistra, in conseguenza del quale riportava gravi lesioni cranioencefaliche che ne determinavano il decesso. La penna è stata sospesa con la condizionale e il minorenne, detenuto dal 13 dicembre scorso, nel carcere Malaspina a Palermo, è stato scarcerato. Lo assiste l'avvocato Calogero Buscarino. I familiari di la mendola si sono costituiti parte civile tramite l'avvocato Rosario Di Dato. Calogero Buscarino. Grazie.